Allarme ambientale a Venafro, un anno da incubo, quello appena finito per le minacce alla salute dei venafrani. Nella stazione di rilevamento di Via Campania è stata infatti superata per ben 40 volte la soglia critica dei 35 sforamenti annuali di polveri sottili. Al 31 dicembre gli sforamenti registrati dalla centralina ARPA Venafro 2 relativi al PM10 ammontavano a 40, 5 in più del limite massimo anno consentito. Oltretutto il limite della media giornaliera pari a 50 unità per millimetro cubo da non superare per 35 volte in un anno è arrivato invece a ben 70 unità per millimetro cubo. Il dato pericoloso è certo e non si può più aspettare. Forse è davvero giunto il momento che Comune e Regione prendano seriamente in considerazione misure più rigide per limitare ancora di più il traffico pesante di passaggio per Venafro e controllare gli impianti di riscaldamento che producano fuligine in quantità anomala. Gli studi scientifici hanno evidenziato una correlazione tra esposizione acute particolato e alterazioni della funzionalità respiratoria, ricoveri in ospedale e mortalità per malattie respiratorie. Inoltre l'esposizione è prolungata nel tempo al particolato già a partire da basse dosi e associata all'incremento di mortalità per malattie respiratorie e di patologie quali bronchiti croniche, asma e riduzione della funzionalità respiratoria. L'esposizione cronica è inoltre verosimilmente associata ad un incremento di rischio di tumore delle vie respiratorie. Il cancro è stato associato in particolare con l'esposizione a particolato di combustione. La fuligine ha infatti proprietà cancerogene e numerosi idrocarburi aromatici policiclici, alcuni dei quali cancerogeni, sono assorbiti su particolato fine che viene inalato profondamente nei polmoni.